Nome. Francisco de Runco. Numero vittime. 4. Modus operendi. Aggressione fisica, armi contondenti, bruciava i corpi. Francisco de Runco è nato il 3 agosto 1957 a Cuba, da genitori affetti da problemi mentali. La sua infanzia fu tragica. A soli tre anni, veniva obbligato ad assumere grandi quantità di farmaci per la sua epilessia, veniva costantemente ignorato dai suoi coetanei. Gli unici ricordi positivi di Francisco erano le giornate al mare con sua madre. Per il resto, passava il tempo solo, con se stesso. La situazione lo portò alla pazzia nel giro di pochi anni. A 16 anni ha iniziato a sentire delle voci, diventò sempre più paranoico, ed iniziò a frequentare sacerdotesse che praticavano magia nera. In quel periodo si isolò ancora di più, poiché era convinto che le altre persone volessero ucciderlo. Nel 1980, approfittò dell'emigrazione di massa di Cubani verso gli Stati Uniti, per imbarcarsi e raggiungere alcuni parenti a Miami. Durante la sua permanenza, iniziò a svolgere vari lavori, ma le sue paranoie, le inquietanti voci, non lo volevano lasciare alla sua nuova vita. Decise così di andare a chiedere aiuto a degli psichiatri, i quali decisero di ricoverarlo ben tre volte nel giro di cinque anni. Ma non sembrava funzionare. Dal 1987 al 1995 fu arrestato numerose volte per reati come, aggressione a pubblico ufficiale, furto con scasso, vagabondaggio, e furto. Ma fu sempre rilasciato nel giro di poco, poiché considerato non minaccioso. Un errore drastico da parte dei giudici. Un errore che costò la vita a cinque donne. Infatti, dall'agosto 1995 al marzo 1996, cinque prostitute nere e tossicodipendenti, furono brutalmente uccise. L'assassino le attirava in un luogo isolato con la promessa che le avrebbe ripagate con la droga, poi le picchiava, le uccideva spaccando loro la testa con un tubo metallico, e poi dava fuoco alla parte superiore del cadavere. Le vittime, Vida Hicks, di 43 anni, Diane Elms di 44 anni, Cheryl Ray, di 37 anni e Janice Cox di 37 anni, furono uccise tutte nel quartiere alla patta di Miami. Il ritrovamento dei corpi, fece scattare l'allarme serial killer, ed immediatamente fu formata una task force, per catturare lo psicopatico. Dopo dieci lunghi mesi di indagini riuscirono ad arrestarlo, grazie alla testimonianza di una senza tetto che raccontò di essere stata picchiata a sangue da Francisco per essersi rifiutata di uscire con lui. Lo trovarono in un vicolo, con una tannica di benzina e dei fiammiferi. L'uomo, evidentemente, era a caccia di prede. Ma per fortuna è stato fermato in tempo. Mentre si trovava in stato di fermo, l'unità speciale riuscì a trovare tutte le prove per accusarlo dei quattro omicidi. Francisco descrisse gli omicidi con estrema precisione, senza provare alcun rimorso o vergogna. Il processo definitivo si aprì nel 2002. A causa dei suoi gravi problemi mentali, il giudice non poté condannarlo a morte. Francisco de Runco fu condannato a quattro ergastoli.